Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi vi porto un titolo molto particolare, Howl. È un po' un mix tra avventura narrativa, puzzle game e strategico a turni. Infatti, come vedrete, i combattimenti hanno queste due grandi caratteristiche, ovvero parte degli aspetti, degli strategici a turni e parte invece dei puzzle games, perché non è che dobbiamo semplicemente combattere contro il nemico, ma va pianificata soprattutto se si vuole finire con il punteggio massimo ogni combattimento, vanno tenute a mente parecchie cosucce. Il gioco è molto bello, ha un art style spettacolare e vi consiglio assolutamente di provarlo. Qua sotto in descrizione, come sempre, troverete il link alla pagina Steam del gioco. Detto questo, inizierei immediatamente un'altra partita, tra l'altro, come vedete, il gioco è anche tradotto in italiano, quindi questo è un plus che assolutamente gli dà una marcia in più rispetto ad altri titoli. Allora, iniziamo con una nuova partita. Sì, grazie. Sì, grazie. Inizia. Visivamente spettacolare, guardate, è bello. Capitolo 1. Borgo del Pianto. La profetessa si mette in cammino, diretta al Levante. Possa la profezia fornirle le risposte che cerca. Questo è stato tradotto molto bene. Fortunatamente, vedete, dovremo raccogliere cose. Ottieni un teschio per ogni nemico ucciso. Il gioco non ti racconta di quali nemici hai ucciso, solo del numero totale. Ottieni una fiducia per ogni sconosciuto salvato. Il gioco non ti racconta, bla bla bla. Praticamente qui, come vi dicevo, ogni combattimento va terminato, diciamo, idealmente raccogliendo il massimo delle risorse possibili. Questo si può fare rigiocando lo stesso livello, fino a che non si ottiene risultato richiesto o voluto. Quindi le battaglie mantengono memoria dei combattimenti precedenti. Cioè, se ho già raccolto tre teschi, per esempio, e devo salvare solo il cittadino, il vagabondo, non devo rifare tutto quanto, non mi devo preoccupare di riraccogliere tre teschi uccidendo i nemici, eccetera. No, no, no. Devo semplicemente in quella seconda run, in quel secondo combattimento, concentrarmi su ciò che mancava per completare al meglio quel quadro. Ovviamente non è obbligatorio, ma è consigliato, perché più risorse avremo, più potenti diventeremo. Allora, muoviamoci. Ecco, guardate che bello. Movimento azioni. Il gioco è diviso in un round. All'inizio di ogni round pianificherai i movimenti azioni. Ciascun movimento o azione rappresenta un turno. Per pianificare il movimento seleziona una casella del livello per aggiungere il movimento alla pergamena. Per pianificare le azioni seleziona il mazzo di carte. E' la fine della pergamena di movimento. Scegli tra lo scoccare una freccia, una luce che spinge via i nemici e l'attesa. Come vi dicevo, è molto particolare. Perché vanno appunto pianificate le azioni e bisogna stare attenti anche a come si muoverà il nemico perché altrimenti ci schianta. Qui praticamente abbiamo la quantità di fiducia che otteniamo, la vita, quante frecce abbiamo e quanti round dovremmo, diciamo in quanti round dovremmo terminare il quadro per ottenere il massimo del punteggio. Quindi vedete, se io adesso le dico vai qui, utilizza tre movimenti. Se no potrei anche fare così, no? Vai qua e poi quando stai qua utilizza una di queste abilità. Io adesso però non voglio. Grazie. Vai qui così cerchiamo di finire subito. Adesso ovviamente, essendo un one shot, io non mi sto veramente a fissare sul terminare alla perfezione i quadri, eh? E finiamo normalmente, vedete qui prendiamo adesso tre stelline. E non c'era niente da raccogliere. Esatto, già dovrebbe esserci un nemico. I nemici reagiscono alle azioni che pianifichi. I nemici sceglieranno sempre il percorso più corto verso il bersaglio. Se ci sono due percorsi della stessa lunghezza, i nemici sceglieranno quello orizzontale. La griglia dei livelli ha dei varchi nelle linee verticali, come promemoria. Che vuol dire? La griglia dei livelli ha dei varchi nelle linee verticali. Questa vorrà agire. Allora, vedete, qui ci dice qual è il raggio di, non solo il raggio d'azione, ma anche il raggio in cui il nemico diventa cosciente della nostra presenza. Quindi se vado qui non succede niente, vedete? Ma appena mi sposto qui, vedete? Tic! Questo si attiva. Quindi dobbiamo stare attenti. Per esempio, io potrei fare... Ha detto che lui si muove orizzontalmente, quindi dovrebbe andare qua, eh. Quindi potremmo dirle, vai qui e poi quando sei qui, spara in alto. Vediamo un po' se funziona. Vai! Yes! Questo è molto complesso, lo assicuro. Però fortunatamente si carica veloce, si salva veloce, si rigioca tutto molto velocemente, per cui non è troppo sofferenza, eh. Teschio, abbiamo ucciso un nemico, quindi un Teschio. Nel caso ci fossero state altri obiettivi, avremmo appunto, come io ho detto, potuto rigiocare il quadro. Questo adesso ce lo fa vedere immediatamente, se non nel prossimo livello, in quello successivo. Esatto, ci sono due risorse, Fiducia e Teschio. Ottieni tre punti Fiducia se finisci il livello entro il suo valore profezia, cioè in tre round. Ricevi un punto Fiducia e meno per ogni round in eccesso. Ottieni i Teschi uccidendo i nemici. Non è sempre possibile ottenere tutta la fiducia ai Teschi al primo tentativo, o senza abilità specifiche. Rigioca i livelli per completarli più velocemente o uccidere tutti i nemici. E la cosa bella è che appunto mantiene la memoria. Quindi per esempio adesso potremmo semplicemente preoccuparci di terminare in tempo il livello. Vedete? Tre punti profezia, ma Teschi zero, perché non l'abbiamo fatto. Possiamo fare riprova. Quindi adesso... Questo si attiva se andiamo qui. Questo va distrutto. Quindi non ci interessa. E adesso possiamo dire vai qui, fai questo e spara. E basta. Split. E adesso dovrebbe essere sufficiente far così. Ok. Abbiamo preso i Teschi. E vai. Oh, vabbè. Dovevo cliccare qui. In sette turni abbiamo finito. Abbiamo preso i Teschi. Perfetto. Andiamo avanti. E qui dobbiamo salvare questo. A volte ti imbatterai in sconosciuti che hanno bisogno di aiuto. Salvali spostandoli su di loro. Per ogni sconosciuto e salvi riceverai un punto fiducia. Ok. Non mi ricordo se devo... Mi ricordo se devo per forza fermarmi. O basta fare anche così. Ok. Basta fare anche così. Ok. GG. Ovviamente questo è il tutorial. Quindi sono abbastanza semplici. Allora. Qui dobbiamo fare così. E così. Non so se possiamo fare anche così. Proviamo. Il fatto... No. E però dovrebbe distruggerlo lui il cespuglio. Proviamo. Esatto. Ma vado qua. Spara. Yes. Purtroppo qui non ci arriviamo. Vabbè. No. Niente. Ovviamente qui vedete. Segna che non l'abbiamo completato del tutto. Lascia un'offerta di 5 teschi sulle pietre per ricevere l'abilità forza. Ok. Stavo cliccando perché questo non c'era nella demo. Lascia un'offerta di 5 teschi. L'abilità forza. Hai sbloccato un'abilità. Apre il menu migliorie per visualizzarla. Le abilità possono essere usate solo se il relativo spazio è stato sbloccato. Ok. Per usare l'abilità forza devi sbloccare il quarto spazio della pergamena. Spendi fiducia per migliorarla. Ecco perché è importante raccogliere tutto e al massimo. Torna spesso a questa schermata per migliorare le tue abilità e aumentare le azioni che puoi compiere in ogni round. E adesso sblocca il quarto spazio della pergamena. Ok. Forza. Infliggi un danno a un nemico adiacente e spingilo all'indietro di due caselle. I nemici respinti vengono disorientati e saltano il turno successivo. Con questo potenziato invece infliggiamo due danni al primo bersaglio entro i due caselle e lo spingiamo entro i quattro. Ok. Questo ti è. Devo fare altro? No. Credo che sia già... Questo non lo possiamo potenziare quindi... Credo che sia già attivo. Vediamo. Molte abilità come forza ti permettono di infliggere danni senza consumare frecce. Ogni abilità corrispondente a uno spazio della pergamena può essere usata solo lì. Ogni abilità corrisponde a uno spazio della pergamena può essere usata solo lì. Le abilità hanno un tempo di ricarica di un round. Pianifica bene come usarle. Tra l'altro noi possiamo spingere il nemico addosso agli alberi e fargli fare... E fargli prendere danno. Questo dovrebbe fare uno, due, tre. Quindi dovremmo poterlo uccidere. Proviamo. Uno, uno. Due, due. Dovrebbe... Vediamo. Ah no, sbagliato. Ah però ho ucciso questo qua giù. Ok. Ok. Ma non abbiamo equipaggiato... Oh forse sì. La quarta l'ha detto quindi. Il fatto che poi arriva questo. No. Vai qui, spara. Vai qui. E adesso? Proviamo. Dovremmo farli sbattere tra di loro. Ah, fa bene. Ci ha feriti. Non ha sparato stavolta però. Ok. Non ha preso uno di danno. Non è il massimo. Ripeto, adesso... Non ci perdo veramente troppo perché... Per farvi vedere il titolo ovviamente voi... Se lo dovessi giocare seriamente starei a studiare molto di più il da farsi. Proviamo comunque a rifarlo un attimo. Voglio vedere se riusciamo a fare un po' meglio. Se io vado qui, lui si attiva, abbiamo visto che rimane fermo qua. Possiamo uccidere comunque questo. Ah, però possiamo fare così. Eh no, però poi qui non mi posso più muovere. Quindi comunque devo arrivare qui. No, un nemico è adiacente. Qui non c'è nessuno adiacente. Quindi direi facciamo comunque così. Ok, stavolta abbiamo ucciso questa. E allora... Direi spara. Poi muoviti. Poi... Muoviti e qui usa questo. Proviamo. No, ok. Vabbè. Vabbè, vabbè ne. Il risultato non è cambiato, però vabbè. Avanziamo. Qui possiamo scegliere dove andare. Se un livello ti metti in difficoltà, puoi attivare la modalità assistita. Owl è fatto per essere giocato senza, ma con la modalità assistita vedrai i movimenti e gli attacchi delle belve, mentre pianifichi il round. La modalità assistita può essere attivata... Ok, non ci interessa tanto adesso. Allora, questa farà titti. Dovrebbe funzionare, vediamo. Ok. Ok. No. Questo ci vede qua. Proviamo. Proviamo. No. Sbagliato, andate dall'altra parte. Maledetta. Maledetta. Ok, quindi questo è il range uno, quell'altro, la spinta. Fammi vedere se ci riusciamo. Ehi, GG! Ce l'ho fatta! Questa l'abbiamo spergato, però. Vabbè, è bastato quell'altro. Allora, io direi... Andiamo... Qui. Proviamo. E vai. Bene. Ci abbiamo messo otto turni, però... Perlomeno... Non abbiamo preso danno. Ne abbiamo ucciso tutte. Allora, andiamo a potenziare questa... Che possiamo potenziare? Solo questa? Questa no? No? Come cinque? Non abbiamo preso niente. Che pippe! Andiamo giù, andiamo su. Andiamo verso il paesino, va? Uh, che bello. Eh, qui appunto prendiamo gente. Allora, questo si attiva quando andiamo qui. Quindi farà uno. Poi quando andiamo qui, lui distrugge. Quindi non ci dovrebbe essere ragione di... Scassare questo. Ah, hanno andato su! Maledetto! Ok. No! Trappolona! What? What? Trappolona! Uno, due. Dovrebbe arrivare qui. Quindi noi qui facciamo così. Schiente. Avrei potuto sparare anche a quello. Ok. Allora. Ma qui mi piglia, a meno che io non vada giù. Posso provare così. Poi così. Vediamo un po'. E poi in caso... Così. Se fosse proprio necessario, vediamo. Non è necessario perché... Alla grandissima. Però vabbè. Dobbiamo andare a prendere la bandiera? Quanto pare sì. Il problema qui, come vedete, sarà proprio cercare di terminare in tempo i quadri. Non tanto uccidere i soldati. I soldati, i lupi. Ok. Sempre più gente. Che cos'è questo? Una belva feroce che carica da tre caselle di distanza. Che carino. Allora, possiamo arrivare qui. Uno, due, tre, quattro, sì. E quando stiamo qui non spariamo perché credo che il colpo vada addosso a questo. Quindi eviterei. Questa si attiva quando vado qui. Quindi farà uno. Io vado qua e lui va qua. Allora, questo lo uccido. Poi vado qui. Questa attiva, questa arriva qui. Io vado qui, questa arriva qui. No, 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 aspetta. Allora, così. 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 No, perché due frecce? Una freccia. Allora. Questo. Qui. Poi qui. E fai... Aspetta. Sì. Allora, qui l'ultima freccia la dobbiamo usare contro quello lì. Questa si attiva, quindi direi. Andiamo qui. Freccia. Questa va qui. Questa va qui. Eh, no, ciao. Attendi. Ah, maledetta. Sarebbe passato di qua? Allora, possiamo spostarlo. Averci qua. Spostarlo. Ok. Beh, sicuramente avremo 800 tesche. Sconosciuto salvato uno? Ce n'era un altro? What? Ah no, forse dice un punto. Perchè non me l'ha dato? Ah no. Ma vaffan bene. Questa era nulla round. Io stavo vedendo queste, invece i punti sono quassù. Ma vaffan bene, sì. Sì. Ma pensate. Ok. Va benissimo. Andiamo qui. Allora, tutti attivi quando vengo qua. Uno, dove è qua? Io vado qua, dove è qua. Ah! Non l'abbiamo uccisa. Allora, io direi, vai qui. Se vado qua, colpisco questo. No, se vado qua, lui scende, no? Tre caselle, ma da questa... Facendo uno, due, tre o uno, due, tre? Perchè, se vado qua e lo schianto addosso le stucce, ma mi sa che questo mi piglia. Proviamo. Ehi! Toccava a me. Ok, no. Quindi si attiva prima lui. Morta. Spostati. O parte lui? Parte lui, ok. Quindi... Io direi... Vai qui. E fai questo. Ho sbagliato! Sì. Vai qui. Fai questa. E poi... No. Non fare niente. Poi vai qua. Ok. Ok. Ah! Maledizione! Allora, no. Uccidiamolo. Aspetta. Facciamo così. Vai qua. Spreccia. Ok. Non so se così potrebbe funzionare. Vediamo. No. Eh, che palle. è. Quasi. Che è meglio. Ok. Ok. No. Maledizione! No. Ti odio. Allora. Aspetta. Questo è così. E basta perché se vado qua questo si attiva e dopo ci attacca, no? Proviamo. Curioso, eh. Ok. E vado qua. Ok. No. Infatti. Quindi ci dobbiamo fermare là. Sì. Quindi. Vai qua. Ok. Freccina. Ok. Bene. Ma lui sta qua. Quindi. Se io adesso. Potrei andare tipo qui. E fare così. Oppure andare. Qui. Lui va qua. Però dopo mi attacca. Proviamo. Eh, no, no. Mi attacca proprio. Ok. Allora. Mi attacca proprio. Prima di terminare il video devo riuscire a ammazzarli tutti, eh. Allora. Vai qua. E questo facciamo così. Qui veramente se amate i puzzle game c'è da impazzire. Allora. Lui adesso viene qui. Qui scende. Quindi io direi. Eh. Aspetta. E poi questo. E poi vai qua. E poi fai questo. Proviamo. Ok. Avanti. Aspetta. Aspetta. Ma porca miseria. Odio. Ok. Non è stata proprio una scelta saggia. Allora. Vai qui. Spara. E torna indietro. Ok. Quindi adesso. Potremmo uccidere questo. Così. Vaffan bene. Solo non mi ricordo se parte prima lui adesso. No. Partiamo prima noi. Questo si attiva quando andiamo qui. Quindi va qui. Io vado qui. Lui va qui. E poi fai questo. E poi fai questo. Vediamo. Non mi ricordo. Un pofff. 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 Grazie a tutti Ah porca miseria è vero questo carica Pensavo di avere un attimo Di respiro E invece no Vai di qua e torna di qua Ok Ma lui sta là Quindi Se io faccio Se faccio la spinta Non prendo niente perché vado prima io Dopo lui mi carico quindi potrei usare O la balestra appunto perché se vado qui Lui comunque fa un passo E qui non ci faccio niente Però se io vado qui Allora lui va qui Io vado qui Allora io vado qui e lui va qui Qua aspetta arriva qui e dopo sparo Vediamo Io vado qua Faccio aspetta e lui arriva qui E dopo aspetta Facciamo questo E così E dopo facciamo questo così Vediamo Faccio una cavolata Ok aspetta lui va lì Lui va addosso a quello e crepa Ok Non c'è bisogno di usare l'abilità Però tant'è che Lo abbiamo fatto Vai qua Allora Questo mossa attiva Quindi vado qui E lui va qui Io vado qui E lui va qui Quindi E direi qui E poi fa così E poi fa così Ok Non è servito Allora Adesso Però No Devo fare così E poi va Potrei uscire O uccidere questo Se vado qui Lui va qui Se vado qui Lui va qui No lui va qui Vado qui Lui va qui Ok Quindi Andiamo qui E qui facciamo questo Dovrebbe bastare Yes Ok Allora Bene Direi che possiamo Terminare qui Questo bellissimo Gioco Si chiama Howl Qua sotto In descrizione Troverete Il link Alla sua pagina Steam E come avete visto È abbastanza Complesso Portare a termine Al meglio Tutte le missioni Perché bisogna Perderci tempo Bisogna Non solo Pianificare Le nostre Dimosse Ma Ricordarsi Tutti I meccanismi Connessi Ai nemici Che Che incontreremo Come vi dicevo Oggi siamo andati Un po' così Perché Era per farvi Vedere il gioco Se no Veramente C'è da perderci Tempo Ma il gioco È molto Molto bello Quindi vi consiglio Assolutamente Di darci Un'occhiata Inoltre Vi ricordo Che come sempre Qui sotto Potete lasciare Un commento Potete mettere Mi piace al video Iscrivervi Al canale Io sono Roy Lovat E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao